Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Nei remake di Pokémon Diamante e Pokémon Perla saranno introdotte nuove mega evoluzioni? Negli ultimi giochi usciti, ossia Pokémon Sole e Pokémon Luna, questa feature è stata per così dire accantonata, sostituita invece dalle mosse Z che saranno probabilmente il marchio di fabbrica della settima generazione, come le mega evoluzioni lo furono per la sesta. Ma è possibile che con il nostro ritorno a Sinnoh si possa assistere ad una piccola ripresa di queste ultime senza ovviamente accantonare le mosse Z? Del resto la quarta generazione è stata soprannominata da alcuni la generazione delle evoluzioni, questo perché introdusse moltissimi Pokémon appartenenti a catene evolutive già esistenti, come Electivire e Magmortar, ma dire il vero ce ne sono moltissimi, anche pre-evoluzioni per dire. Questo potrebbe in un qualche modo spingere Nintendo ad inserire ad esempio le mega degli starter, come tributo a questa generazione e magari riesumare il concetto di archeo risveglio per il trio leggendario di quarta gen e chissà, magari anche per Arceus. Inoltre risulterebbe strano vedere solo gli starter di prima generazione e di terza mega evolversi, in quanto comunque si tratta di starter, ed avvantaggiarne così tanto alcuni piuttosto che altri potrebbe risultare scorretto in un certo senso. Sono più o meno convinto personalmente che piano piano si cercherà di assegnare una mega evoluzione ad ogni starter presente, oppure una pietra speciale per la mossa Z peculiare, in modo tale da bilanciare le loro effettive forze, le loro effettive possibilità, ma su 7 starter già presenti, secondo me, solo due gruppi impossessi dalle mega evoluzioni sono davvero pochissimi. Inoltre, come già detto in un video precedente, i remake per quanto mi riguarda potrebbero essere quasi sicuramente in settima generazione, e se non l'avete visto trovate il video in descrizione per saperne di più a riguardo. Abbiamo visto come nella sesta generazione, da un titolo X e Y all'altro, Horus, siano state aggiunte molte mega evoluzioni, e quindi inserirne un paio di nuove nei remake di certo non creerebbe problemi. In sintesi, secondo me, la questione delle mega evoluzioni è troppo incompleta per essere abbandonata così, e forse, piano piano, senza togliere spazio alla ribalta delle mosse Z, e quindi dando a loro un'importanza secondaria, ne verranno aggiunte di nuove, e forse si partirà proprio dai remake di quarta generazione. Voi che cosa ne pensate, ragazzi? Vi piacerebbe che venissero aggiunte perlomeno le mega degli starter? Ritenete che l'equilibrio tra i Pokémon iniziali vada in un qualche modo ristabilito, o preferite le cose così come stanno? Perché, pensandoci bene ora come ora, un Bloodseek, grazie alla sua mega, è molto, ma molto più forte di un Typhlusion, e forse questa cosa andrebbe in un qualche modo raddrizzata. Fatemi anche sapere magari se preferite le mosse Z alle mega evoluzioni, o viceversa, nei commenti, ed iscrivetevi al canale per altri contenuti di questo genere. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace, mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale, e premette la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!